Cambio della guardia nella diocesi di Ferrara a Comacchio. Martedì a mezzogiorno è stata resa pubblica la nomina del nuovo arcivescovo nella persona di Monsignor Giancarlo Perego, attualmente direttore generale di Migrantes, l'organismo pastorale della CEI per la cura dei migranti italiani e stranieri. Succede a Monsignor Luigi Negri che al compimento dei 75 anni ha rimesso il mandato pastorale nelle mani del pontefice. I direttori diocesani della Migrantes dell'Emilia Romagna hanno espresso la loro gratitudine ad entrambi i presuli, anche perché Monsignor Negri era stato anche vescovo delegato per i migranti della conferenza episcopale regionale, settore pastorale al quale Monsignor Perego darà certamente un impulso prezioso per sostenere l'opera di evangelizzazione e cura pastorale verso i migranti, promuovendone l'accoglienza e sostenendone diritti e doveri.